Una cosa che odio nell'America è che le persone sono estremamente fredde, gelate, zero accoglienti, proprio zero ospitali Questa è una cosa di cui neanche io vi ho mai parlato in primis, infatti non so perché Ma dovete sapere che qui le persone quando vi vogliono abbracciare, tipo voglio abbracciare qualcuno Oh my god baby how are you? Loro Questo è il loro così nelle mie spalle Nella serie levati perché mi stai toccando dei gatti letteralmente Qui in America è difficile, tu hai ragazzi carnali che vogliono il contatto fisico, qui sono tipo levati Tori nella vita loro, Tori Amo il sogno del Toro, non confondete, sono uno dei miei preferiti Però io essendo sagittario ho bisogno del calore, del contatto fisico, del Vieni qua che ti abbraccio, devo sentire il profumo cavolo che porti, volevo sentirlo capito? Qui sono super freddi e mamma mia Non hanno proprio di cultura questa cosa che proprio ti devi avvicinare Non esiste per loro, è assurdo E secondo me un italiano proprio per questo motivo qua è difficile che si trova bene e che si voglia proprio trasferire qui in America Pure io, che amo l'America, ci sto a sei mesi, un anno o due Ma io non credo che riuscirei mai a vivere proprio in America Perché è troppo, troppo diversa la nostra cultura, non so come dirvi Bellissima ma meglio le persone accoglienti italiane Bellissima ma meglio le persone accoglienti italiane